Ora vediamo com'è la situazione del traffico nella nostra regione e ci colleghiamo con Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sì Marco, buongiorno. Mercoledì 11 gennaio caratterizzato da flussi veicolari vivaci sulle strade della nostra regione per i consueti espostamenti pendolari con l'inizio delle attività lavorative e scolastiche. Come di consueto monitoriamo le immagini di Autostrade per l'Italia del Ponte San Giorgio che evidenzia flussi veicolari vivaci in entrambe le carreggiate. Inizio nelle comunicarvi che ci sono delle code sviluppate per traffico intenso sulla Genova Ventimiglia tra Renzano e il Bivio della 26, la Genova Gravellona Tocce, code che ritroviamo anche tra Genova Pra e il Bivio della 26. Segnalazioni di lavori che determinano code anche sulla 26 tra il Bivio della 10, Genova Ventimiglia e Masone in direzione Gravellona. Nelle piano di ammodernamento e manutenzione di autostrade per l'Italia c'è una stima dei tempi di percorrenza molto superiori alla norma che vediamo con l'ausilio della grafica, in a 10 questa mattina fino alle 10 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19 in direzione del capoluogo Ligure. Sulla 12 la Genova Rosignano abbiamo code sia questa mattina fino alle 10 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19 in entrambe le direzioni sia verso Sestri sia verso Genova ma anche sulla 26 l'abbiamo già visto sono in atto delle code sia questa mattina fino alle 13 sia nel pomeriggio dalle 16 alle 19 in entrambe le direzioni. Mi fermo qui, comunque per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.autostrade.it nella sezione dedicata alla viabilità della Liguria. Restituisco la linea, buona giornata a te e ai nostri telespettatori. Arrivederci. Grazie Alessandra, allora lo abbiamo detto il primo piano di oggi è dedicato all'emergenza migranti a 20 miglia.